Una notizia attesa da anni dai residenti dell'Isola Sacra. La diga, protezione del comprensorio, è ormai realtà con il collaudo positivo dell'Argine del Tevere. L'opera, realizzata dalla regione, è lunga 2 km e collega via Costa Lunga con via del Faro. È alta 3 metri ed è costata 3 milioni e mezzo di euro. L'intervento di messa in sicurezza comporterà un declassamento del rischio che passerà da R4, il massimo, a R2. Da circa 20 anni attendavamo questa bella notizia, ha dichiarato il presidente del Comitato Spontaneo di Isola Sacra, Fabrizio Pagliuca. Soddisfatta anche la presidente della Commissione Consigliare e Pianificazione del Territorio, Barbara Bonanni, che ha commentato «Continueremo ad affrontare il tema del rischio idrogeologico, esaminando proposte e percorsi, senza perdere di vista l'obiettivo primario, la sicurezza». È stato compiuto dunque un primo passo, ma resta in piedi il vincolo alluvione, legato al potenziamento dei canali di bonifica e alle idrovore. Il consigliere di opposizione Mario Baccini è molto critico su questo tema. Hanno diviso l'area, sottoposta a vincoli, prevedendo interventi a macchia di leopardo, che non farebbero altro che creare cittadini di serie A e di serie B, lasciando senza soluzione gran parte della zona a rischio allagamento, ha concluso Baccini.